Promosso a Edison Cavani, il fuoriclasse uruguaiano in ritiro con la sua nazionale ha rimarcato con forza il suo desiderio di restare al Napoli. Ai giornalisti ha detto, da bambino sognavo di giocare nel Real o nel Barcellona, ma ora sono orgoglioso di vestire la maglia del Napoli, questo è l'importante. Poi il Matador ha chiosato, non mi lascio distrarre dagli ingaggi, penso solo al Napoli perché ho ancora un contratto. Bocciato Beppe Grillo, l'ex guru del Movimento 5 Stelle, attuale outsider della politica tricolore, grazie alla sua troppa aria fritta distribuita a modi popcorn, ha spiegato i motivi della sonora sconfitta del suo movimento vergognosamente chiosando. Ha vinto chi vive di stipendi politici, dirige aziende pubbliche o a pensioni più solide. Appare tanto l'ira di chi non ha saputo né potuto dirigere la protesta degli italiani, per quella sono mancate le palle.